Io è 30 anni che cerco di far capire a questi Beoti che i diritti civili sono diritti sociali, che non è che sono radical chic dei parioli. Ma come capire i Beoti? Siamo perché siamo maschi o perché siamo noi? Siamo maschi. Anche, anche, ad adiuando. Ma sono diritti sociali, perché chi ha i soldi, già ai miei tempi, andava ad abortire a Londra senza... Chi non li ha va dalle mammanie, se riesce. Ma vale lo stesso per tutto. Lo Iususkolle a me fa impazzire questa idea che uno che vive in Italia, che parla italiano, anzi romanesco, meglio di me e di molti di voi, no signore, e perché? Perché è nero, perché è giallo, perché è verde, perché non so. E diceva Mandela una volta, ricordatevi sempre che al di là del colore della vostra pelle, il sangue è rosso per tutti.